guarda diventi rivoluzionario perché vuoi fare cose normali però c'è una cosa che quando io da cittadino dicevo qua facevo battaglia contro i tiri proprio al cavalcavia da cittadino spesso ti calpestano e questo è brutto e io ho avuto multe la polizia che mi portava dentro ora guarda come è cambiata la musica ora dico le stesse cose di prima e ho la polizia accanto a me il diritto aiuti